Davide Moio, un'altra sconfitta, non è abbastanza una prestazione fatta di compattezza e determinazione? Sì, purtroppo stiamo qua a parlare ancora di un'altra sconfitta. Questo dispiace perché comunque con la riguardo nuova da Nattore abbiamo preparato benissimo la partita. Siamo cadati nella sua mentalità cercando di fare quello che ci chiedeva. Siamo qua a recriminare tra un'altra sconfitta che per il morale della squadra non fa sicuramente bene. La sensazione che forse manca un pizzico di coraggio soprattutto in fase offensiva? Sì, sicuramente ci manca qualcosa perché se occupiamo questa posizione intensivica qualche problema ce l'abbiamo. Un po' in tutte le zone del campo dobbiamo essere un po' più sicuri, cercare un po' di sicurezza, di coraggio come dici tu. Questo può essere una delle soluzioni.